Ciao a tutti, sono Federico Lavaglia e in un momento così difficile il messaggio che voglio mandare è quello di seguire attentamente tutte le disposizioni che il governo ha emanato in questi giorni. Quindi anche io resto a casa. Facciamolo tutti insieme perché questo è l'unico modo che abbiamo per impedire al virus di espandersi così velocemente e di poter tornare alle nostre vite di tutti i giorni il prima possibile. Il mio pensiero adesso è rivolto a tutti i medici e agli infermieri che lavorano incessantemente giorno e notte negli ospedali e a tutti colpiti dal virus. Sono sicuro che andrà tutto bene ma per farlo dobbiamo restare tutti in casa. Un abbraccio forte e forza Gubbio. Ciao ciao.